Pomi d'ottone e i manici di scopa. Giovedì prossimo alle 20.30 è ancora di scena il Brivido. Per il ciclo di Italia 1 dedicato a Dario Argento. Inferno. Questo programma vi è stato offerto da Lavas Bianca. Lavas Bianca è fantasmatico! E' iniziato il conto alla rovescia. Si respira l'aria elettrizzante dei mondiali di calcio. Avvenimento che con le Olimpiadi sono sicuramente il più amato e il più atteso del mondo dello sport. E' avvenimento che inizierà il 31 maggio a Città del Messico con Italia e Bulgaria. Azzurri che devono difendere il titolo di campioni del mondo che hanno conquistato 4 anni fa in Spagna al termine di una cavalcata esaltante che ha dato vita a delle sfide indimenticabili. Argentina, Brasile, Polonia, Germania o... Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie a tutti.